Sono musicista, sono stato invitato qui in questo festival a prendere parte alla giuria della sezione thriller. L'esperienza del festival fino ad adesso è arrivata al secondo giorno e molto buona. Ho avuto modo di visionare già dei film e vedere che comunque il livello tecnico è veramente molto alto e tutti quanti i cortometraggi ho avuto modo di vedere. Poi è chiaro che stiamo vedendo insieme agli altri giurati i contenuti e tutto il resto per valutare e classificare un po'. Io penso che conti moltissimo la musica del thriller. Poi certo, il silenzio ha la sua importanza. In certe scene a volte si riesce a ottenere una tensione che soltanto il silenzio riesce a dare. Però è ovvio che la musica nella narrazione di una storia ha sempre la sua importanza, soprattutto per quanto riguarda il mezzo cinematografico. Quanta affluenza di pubblico c'è stata nella prima sera. Finita la pellicola? No, c'è un cellulare. Ah, è il tuo. Vado avanti? Tanto tagli poi, no? È stato molto bello vedere l'affluenza del pubblico che c'è stata ieri la prima sera e vedere che comunque fino a notte fonda continuava ad arrivare gente per vedere gli ultimi film. Beh, altro che la musica della pietra. Alla voce della pietra. La voce di questo sole così forte, di questa luce fortissima che sicuramente è unita alla pietra, ti porta in una dimensione che va veramente oltre alla localizzazione geografica nazionale. C'è qualche cosa a pente d'attilo che rientra un po' in un archetipo umano che questa natura meravigliosa di questa parte della Calabria veramente riesce a rendere. È la prima volta che arrivavo qua giù ed è veramente bello, veramente sorprendente la forza di questa terra.